Allora il 31 ottobre del 43 è venuta la motocicletta tedesca, due portavano i buoi a piedi a Santa Maria Molise che le sedevano e l'altra cosa è venuta solo con la motocicletta con la barchetta a fianco, con la motocicletta, ha preso a me là, in quel posto là, dice tu insegnare a un patrone del volo, ma io appena sono, mi ha preso con la mano qua sul collo e mi ha buttato dentro a quella vaschetta, l'ha girato come un boom e mi ha portato là, se mi è arrivato là ho incontrato questo, e dice beh eccolo è lui e si è fermato, «Cud!» disse, «Tu patrone del volo, quanti soldi vuoi?» «No, no, no, voi mangiamo noi!» «Cud!» disse, allora dice, «Cud!» dice, «Cud!» dice, «Vo vedete che questo ce l'ha da avere?» «Io ho pensato a me, ma ha preso un pacchetto di sigarette, ha dato due all'uno e una a me, e me l'ha acceso e io lo stavo stravangorando perché non ero abitato a fumare, allora mi paghiava, mi paghiava a fumare, e allora dice, «Vieni, soldi?» «No, dopo ho messo a centomila lire, centomila lire, va bene, conto, ha messo la mano in tasca dopo delle sigarette, ha preso un voglio bianco, paga il ballone!»